Buongiorno a tutti voi, sono il Sindaco e volevo salutarvi e ringraziarvi per quello che state facendo anche oggi. Una grande città come Milano vive di tante cose, ma innanzitutto deve avere i servizi di base che funzionano bene, deve essere pulita, la gente si deve muovere bene e ci deve essere sicurezza. Poi da lì in poi si costruisce il racconto di una città che piace agli italiani, ai giovani, agli stranieri, insomma quello che Milano è oggi, ma se i servizi di base non funzionano non c'è nessuna storia da raccontare, per cui io sono venuto qua stamattina per ribadirvi questo concetto molto chiaro, ma soprattutto per ringraziarvi e per dirvi con grande chiarezza che io considero il momento positivo di Milano come un successo di tutti noi, non di qualcuno ma di tutti noi, soprattutto di quelli che interpretano la filosofia e il modo di vivere di Milano che è basato sul lavoro e speriamo che questa città continui a essere così, ma io non ho grandi dubbi, per cui buon Ferragosto, poi vi riposerete, ma intanto buon lavoro e grazie a nome di tutti i milanesi per quello che state facendo per noi. Saluti a tutti.